La dea bendata bacia la provincia di Catanzaro. Con un 10 secco, un fortunato si aggiudica una vincita da 2 milioni e mezzo di euro al concorso 10 e l'8. Con una giocata di soli 4 euro, lo sconosciuto scommettitore a Soveria Simari, comune di circa 1.500 abitanti, ha cambiato decisamente la sua vita. Ma non è tutto, probabilmente lo stesso vincitore, con una giocata identica da 4 euro e modificando un solo numero, ha centrato anche una 9 che vale 50.000 euro. Una giornata che ha comunque del memorabile per la piccola comunità calabrese. Da quando si è diffusa la notizia è iniziata ovviamente la caccia all'autore delle giocate vincenti. Attualmente la vincita di Soveria Simari è la più alta assegnata nel 2022 dal concorso 10 e l'8.